Ciao ragazzi, benvenuti! Venerdì, tempo delle offerte della settimana, ma anche in questo caso un video speciale. Sì, perché settimana prossima è la festa della mamma e quindi mi sono detto perché non fare un video apposta per suggerire alcuni regali appunto per questa festività. Beh, l'ho fatto e quindi preparatevi a vedere degli oggetti molto fuori dalla norma. Pronti per partire? Vi ricordo solo che qui sotto trovate il link per approfondire appunto di tutti questi oggetti che sto a preproporvi. Iniziamo con una Planetarria, un modello di fascia, definiamola, alta, venduta al 46% di sconto. Planetarria è quell'oggetto insomma per mischiare i vari ingredienti per fare dolce, salato, un po' di tutto. Sicuramente farà felice molte mamme. Dicevo, questo modello di fascia alta, 46% di sconto, 375 euro come prezzo. Se invece volete qualcosa di meno, risparmiare qualcosa, comunque sempre da quello che ho visto ovviamente non è che sono espertissimo di queste cose, però vedevo le recensioni su Amazon e tutto, quindi ho fatto una minima ricerca. Questo modello che vedete è venduto al 33% di sconto e 199 euro come prezzo finale. Invece sempre per rimanere in ambito cucina, se volete fare un pensierino, c'è questa bilancia venduta al 21% di sconto, no vero, questo è proprio un pensierino, però ci sta. E sempre per rimanere in cucina, questo è un oggetto che potreste regalare, che farà felice probabilmente anche voi, perché è una friggitrice ad aria. Io ce l'ho ragazzi e funziona bene, cioè sembra strano dire no, cioè non saranno come la vera frittura. Non è che sono proprio identici, però sono veramente molto molto vicini, sono ottimi, quindi si mangia anche più sano, 40% di sconto e 119 euro come prezzo finale. Dopodiché ho selezionato questo, che è un massaggiatore plantare, che farà sicuramente molto felice le mamme, magari in giro con i tacchi camminare tanto, quindi prendere le massaggiare e i piedi rilassarsi. 52% di sconto e 47 euro come prezzo. Questo è proprio forse il regalo azzeccato. Dopodiché ho dovuto per forza mettere un epilatore, perché non sono sicuro, che qua non sono assolutamente esperto, però come dicevo, ho guardato questo modello con delle buone recensioni, 44% di sconto, 69 euro come prezzo. Dopodiché una combo, un mix tra una riccia a capelli e un asciugacapelli, di buon livello, che li trovate al 20% di sconto, 84 euro come prezzo finale, si possono fare anche separati, perché no? E finisco, in verità non finisco, ma già finisco con questi oggetti un po' molto fuori dalla norma, con questo kit prima colazione, che secondo me poi torna più utile a voi, perché vi trovate caffè, cappuccino, spremuta, tutte belle pronte, al 31% di sconto, 199 euro come prezzo finale. Ho messo il kit perché ovviamente poi gli oggetti possono essere presi anche separatamente. Mentre, tornando un po' nella tecnologia che conosciamo, ho individuato questo Huawei Mate S, se volete fare uno smartphone di buon livello, il colore rosa, che è un rosato, non è che fa più rosa, è quasi fucsia, è un rosato, quindi molto bello, 32% di sconto, 439 euro come prezzo finale, mentre chiudo con un telecomando universale, perché ricordate, mamme, insomma, magari possono avere anche una certa età, e magari si vuole semplificare l'uso della tecnologia. Questo è un telecomando per tv universale, proprio semplicissimo da utilizzare, che autoapprende anche, con pochissimi tasti, venduto al 24% di sconto, 12 euro come prezzo finale. Bene ragazzi, quindi prodotti, come avete visto, molto lontani da quello che faccio solitamente, ma per l'occasione della festa della mamma, alcuni secondo me sono proprio azzeccati, se volete fare un bel regalo. Se invece volete altri prodotti più tecnologici, più vicini insomma al nostro mondo, date un'occhiata ai video della settimana scorsa, perché molte offerte sono ancora valide. Vi ricordo che qui sotto invece trovate tutti i link dei vari prodotti che vi ho elencato. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se vedete altri possibili regali per la festa della mamma, segnalateli qui sotto, magari qualcuno può prendere spunto, mi piace al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo negli altri. Ciao!